È stato Pier Giorgio Pulixi uno dei più importanti autori noir presente in pianta stabile nella top 10 della narrativa italiana ad aprire l'edizione 2023 di Zenzero Festa. Pulixi nel giardino pensile del palazzo della provincia ha presentato il suo ultimo thriller fresco di stampa, Stella di Mare. Racconta l'omicidio di una ragazzina di 17 anni, Stella, questo era il suo nome, dalla bellezza straordinaria, una bellezza sovrannaturale quasi, una Elena dei nostri tempi. Questa ragazzina veniva da un quartiere molto difficile che si chiama Sant'Elia, un quartiere popolare di Cagliari ed è un romanzo che parla di periferia, è un romanzo che parla di come il nostro paese ha smarrito la propria anima nelle periferie. Spazio anche al cinema con Stefano Veneruso che è ricordato uno degli artisti più amati a 70 anni dalla sua nascita, Massimo Troisi. Regista, sceneggiatore, produttore nonché nipote dell'amatissimo attore napoletano, ha presentato ad Arezzo Massimo Troisi il mio verbo preferito è evitare. È una frase che lui diceva spesso per evitare proprio le discussioni inutili, le tensioni, le cose, e quindi mi sembrava giusto, sento come avvicinarlo alle persone che l'hanno conosciuto o comunque lo conosceranno. A chiudere questa prima parte del festival letterario l'incontro con Emanuela Fontana, autrice della correttrice La Storia di Emilia Luti, la giovane bambinaia fiorentina che lavorò con Alessandro Manzoni alla sesura dei Promessi Sposi. Era una fiorentina che rispondeva in maniera arguta, però dalle lettere risulta anche una persona comunque umile e rispettosa. Come umile era anche Manzoni nell'affidarsi a una ragazza che in fondo non aveva particolari studi alle spalle, non era nobile ed era soprattutto una donna, ma è con lei che ha risciacquato i panni Narno.